Accolte le richieste della Regione Veneto che punta ad Acquilibere d'Apfas entro la primavera 2020, stanziati dal Ministero dell'Ambiente 20 milioni di euro per il 2019, altri 3 milioni e 200 mila euro per il 2020, un totale di oltre 23 milioni di euro necessari per completare gli interventi atti a realizzare la nuova rete di acquedotti nelle aree inquinate d'Apfas. A darne notizie il commissario straordinario Nicola Dell'Acqua, i lavori intanto complice il buon tempo sono proseguiti e c'è ottimismo sul rispetto dei tempi previsti nei tre cantieri avviati in parallelo.